ragazzi bentornati sul canale io sono iomarcio98 e oggi andremo a parlare di un argomento che mi sta abbastanza a cuore ed è un video che avevo intenzione di fare da un po di tempo oggi non ci si diverte si parla di cose diciamo serie ecco che riguardano il gioco for honor quindi bando alle ciance io partirei subito parlando un attimo facendo un piccolo recap di quello che è stato for honor in questi anni nel frattempo avete un gameplay di sottofondo con clip diciamo semi selezionate di eroi casuali in dei duelli nella sessioni di duelli allora che cosa è successo for honor in questo in questo tempo che c'è for honor è uscito all'inizio del 2017 adesso siamo quasi siamo ad aprile del 2019 e cosa è successo in questo in questo periodo in questi due anni di gioco abbiamo avuto varie stagioni siamo la stagione 9 e alla porta è la stagione 10 quindi abbiamo avuto vari cambiamenti il gioco all'inizio era totalmente un altro gioco il gameplay era diverso gli eroi erano molti meno nel divertimento era quasi assente a causa di problemi tecnici non indifferenti quindi abbiamo avuto una stagione 1 in cui il gioco era acerbo neanche gli sviluppatori secondo me avevano intenzione aveva un'idea aveva un'intenzione di fare qualcosa perché il gioco sembrava morto in partenza in quanto i server non funzionavano assolutamente avevamo disconnessioni in continuazione lag il gioco era ingiocabile assolutamente poi sono usciuti nelle altre stagioni sono usciti eroi nuovi quali il centurione lo shinobi e ad ogni cambio di stagione c'era sempre un problema di un eroe sbilanciato perché faceva entrare nel gioco delle nuove meccaniche che o non si capivano oppure avevano completamente erano game breaking erano fortissime come il centurione inizialmente faceva dei danni assolutamente sbagliati e qualsiasi cosa che faceva il centurione ti accecava e quindi chiaramente il gioco era ingiocabile posso capire che ci sia dell'astio ancora verso quel personaggio anche se ora come ora non è assolutamente un problema poi insieme a lui appunto è uscito lo shinobi poi abbiamo avuto il gladiatore insieme all'highlander poi abbiamo avuto la ramuscia insieme alla sciamana insomma abbiamo avuto alcuni eroi in quel caso la la sciamana è stata assolutamente fortissima all'inizio poi è stata depotenziata prima che uscisse effettivamente nel nel gioco e giustamente qui un applauso agli sviluppatori sono stati davvero rapidissimi nell'esecuzione nella risoluzione di questo problema l'highlander per esempio è stato sempre un eroe schifoso fino a che è stato abbaffato in stagione 5 quindi arriviamo alla stagione 5 i server sono stati sistemati si sta abbastanza bene il gameplay si basa su un meta difensivo quindi diciamo che vinceva chi aspettava l'attacco dell'altro per fare perry o per counterarlo in qualunque maniera insomma si potesse counterare un eroe una mossa insomma un attacco un bash anche se di bash c'erano ben pochi con la stagione 5 abbiamo avuto una modifica che ha davvero spiazzato il gameplay di molti eroi che è stata la rimozione del guard break dopo il parry se vi ricordavate all'inizio avevamo un guard break garantito post parry di attacchi non ranged quindi gli eroi che ti stavano sulla distanza per esempio la nobushi non non erano accounterabili con un guard break quindi non era garantito dopo il parry mentre per esempio contro un guardiano se facevamo parry a un qualsiasi attacco del guardiano noi avevamo un guard break garantito e ci sono eroi che hanno vissuto di questa meccanica come come il centurione ad esempio come il razziatore il razziatore ti trasportava in giro ed era un buon eroe in quel periodo il centurione lo era poi chiaramente ci sono state queste rimozioni e le cose sono le cose sono cambiate siamo andati avanti abbiamo ottenuto gli eroi vulin alcuni rework il 2018 è stato la maggior parte di rework quindi abbiamo avuto il rework del guardiano abbiamo avuto il rework della valchiria della pacificatrice dell'oroci il potenziamento dell'eylander che l'ha reso per un buon periodo un personaggio decisamente valido a causa del suo 50 50 di calcio calciopresa insomma ci sono stati alcuni rework e il più recente è stato quello del dello shugoki insieme a non mi ricordo quale comunque è stato un rework particolarmente ben fatto secondo me l'ha reso davvero un personaggio molto valido abbiamo avuto però prima di questo gli eroi vulin quattro eroi con le loro caratteristiche alcuni secondo me validi alcuni meno perché basati su delle meccaniche che non funzionano bene in particolare sto parlando della nuxia chiamatela come volete che non può fare altro che tirare attacchi leggeri ogni tanto fare qualche trappola però è un gameplay davvero povero 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 si sono sprecati abbastanza con quel personaggio poi arriviamo alla stagione 9 che è quella in cui siamo adesso abbiamo il priore nero il nostro carissimo black priore che all'uscita era un buon personaggio è ancora un buon personaggio aveva di danni leggermente alti all'inizio e un bash che non è punibile attualmente ancora non lo è qualsiasi modifica che hanno fatto che hanno annunciato o dichiarato effettivamente non funziona e quindi il bash della sua scudata continua a essere impunibile se non dal razziatore con la schivata dopo il gb quindi soffre leggermente il razziatore il priore nero ora insomma ci sono stati diminuti i danni ai finali di serie pesanti agli attacchi leggeri garantiti gli attacchi leggeri in generale adesso siamo alle porte a fine mese della stagione 10 avremo nuovo eroe e dei sushi quindi della fazione di samurai per ora non si è ancora visto niente abbiamo visto almeno che c'è una labarda lancia insomma un'arma particolare sono molto molto curioso di vedere che cosa sarà questo eroe avremo però anche dei rework quindi quello del giustiziere lowbringer e del razziatore del rider e per questi insomma non ancora non ci è stato mostrato niente però nutro speranze più che altro perché sono entrambi personaggi che apprezzo molto a livello estetico e anche a livello affettivo il razziatore è stato uno dei miei primi personaggi che ho utilizzato particolarmente e quindi ci tengo che il rework gli renda giustizia e stessa cosa per il giustiziere perché se non rendiamo giustiziere al giustiziere c'è un problema ovviamente ecco adesso volevo fare un breve discorso su quello che è la concezione di divertimento mia e che vorrei nel gioco il metano è diventato un meta di offensivo invece che difensivo quindi l'attacco premia molto di più rispetto alla difesa questo a causa dell'inserimento dei bash e di attacchi indovinabili ad esempio la scudata del conquistatore ad esempio la pomellata dei kensei oppure da vicino la spallata del guardiano ecco per intenderci quindi un approccio difensivo non funziona più bene come funzionava una volta in ogni caso non è per forza una cosa negativa questo chiaramente ha fatto sì che nel gioco fossero modificati e inseriti eroi nei quali la meccanica del 50 e 50 degli attacchi indovinabili dei bash e degli attacchi particolarmente rapidi è presente può essere spiacevole per molti secondo me il gameplay comunque è più divertente rispetto a quello che era una volta però For Honor secondo me ha vissuto un periodo che è circa quello della stagione 5 che è stato il suo periodo migliore il periodo in cui io mi divertivo di più a giocare in cui tornavo a casa e dicevo che bello oggi gioco a For Honor adesso invece purtroppo siamo in un periodo in cui For Honor vive di una grossa ripetitività abbiamo sempre gli stessi personaggi utilizzati abbiamo personaggi che è davvero frustrante trovarsi contro ad esempio un Brasserker nel quale se si usano certi personaggi semplicemente sei lì e guardi lui che fa le cose mentre tu te la pigli ecco perché effettivamente attacchi che sono semi irreagibili hyper armor quindi non lo possiamo bloccare con i nostri attacchi da nessuna parte insomma ci sono un pochino di problemi oppure ad esempio eroi che non hanno capacità offensive che sono rimasti indietro come ad esempio il giustiziere non potevano competere con personaggi come il priore nero perché non c'era assolutamente alcuna maniera se non quella del Perry di counterarlo perché anche la spinta dopo il blocco non riusciva a counterare non riesce tuttora a counterare la scudata del nostro priore nero questo non rende il priore nero un personaggio sbroccato o P strafigo è un buon personaggio secondo me non è il personaggio più forte di gran lunga quindi nella mia concezione di divertimento c'è un gameplay in cui si alterna chiaramente la difensiva all'offensiva in cui non si tratta di chi attacca prima molto spesso davvero ragazzi ci si trova a fare una gara di chi attacca prima di chi indovina prima o dopo un attacco che starà arrivando e la vittoria spesso e volentieri dipende proprio da quello quindi ogni tanto ti ritrovi a finire il round e dire parlo per me soprattutto del gioco 1v1 ti ritrovi a finire il round e dici ah ok lui ha vinto tot 50-50 io ho vinto questi e lui ne ha vinti di più io ne ho vinti di più e quindi uno o l'altro a seconda di ha vinto o perso attualmente per quel che riguarda il mio parere personale gli eroi che preferisco di più utilizzare sono la valkyria per la capacità di variare i mix up il gladiatore e il kensei attualmente infatti sono quelli che sto giocando di più i personaggi che purtroppo sono rimasti indietro e mi tocca aggiungere anche che l'eylander è rimasto indietro perché ha degli attacchi troppo lenti per fare qualsiasi cosa il suo entrare nella stance offensiva che è la cosa migliore che può fare tra l'altro nel sottofondo potete vedere uno rocci che lagga che è molto piacevole il suo entrare nel 50-50 permette ad eroi che hanno attacchi a 400 millisecondi chiaramente di asfaltarci malamente perché non resisteremo un attimo o indoviniamo la direzione in cui arriverà un attacco per poterlo schivare con il nostro recovery da 400 millisecondi oppure ce la prendiamo nel sedere in ogni caso è una cosa che richiede una quantità di pratica ingiusta ecco questo è quello che io vorrei un pochino dal gioco so che è difficile il meta cambia abbastanza lentamente anche perché gli sviluppatori non sono molto veloci a fare le cose a fare i cambiamenti, inserimento di eroi eccetera ma non sarei molto puntato sull'inserimento degli eroi più davvero a risolvere quelli che sono i problemi le carenze dei vari eroi perché non posso aspettare 4-3-4 mesi ogni volta per il cambiamento anche minimo di alcuni personaggi perché quello che è stato per esempio il rework della pacificatrice che nel suo periodo di gloria in cui faceva di danni esorbitanti ed era il personaggio più veloce del gioco chiaramente era fortissima ed era sbagliata andava sistemata, sono pienamente d'accordo però il rework che è stato fatto alla Valkyrie secondo me è assolutamente un rework pigro senza voglia di pensare qualcosa semplicemente hanno deciso di aggiungere una meccanica di soft feint di leggero che esce sempre dall'altro e provoca bleed però diciamo che non è decisamente quello che mi aspettavo da un rework di quel tipo però così è stato l'hanno reso da un personaggio noioso è un personaggio noioso forse un po' meno però questo è di sicura una sfida giocarla perché prima di uccidere qualcuno bisogna colpirlo totte mila volte ecco e l'ultimo punto che volevo di cui volevo parlare era For Honor 2 siccome se ne parla un po' in giro si sente parlare di eh ma sarebbe bello For Honor 2 c'è chi dice di sì c'è chi dice di no io ho una mia opinione al riguardo però non è sia non è né una risposta positiva né una negativa semplicemente un For Honor 2 eh servirà solo nel caso in cui questo qua fallirà completamente se gli sviluppatori riescono a sistemare i problemi che il gioco ha forse eh non avremo bisogno di un videogioco come For Honor 2 in cui si ripartirebbe da capo quindi anche lì capisco che la casa di sviluppo ha eh già delle conoscenze ha fatto esperimenti qua e là ha testato e va benissimo sicuramente sarebbe un gioco che parte con una marcia in più anche perché eh sapete che For Honor ha è l'unico nel suo genere ed è ciò che lo rende un buon gioco eh perché se fosse un gioco con un sistema di di gameplay eh come gli altri con i problemi che invece ha For Honor soprattutto legati al allo sbilanciamento dei personaggi chiaramente eh sarebbe un gioco morto in partenza fatto sta che For Honor 2 ora non ce n'è il bisogno è molto più interessante vedere che cosa faranno gli sviluppatori perché nel momento in che avremo i rework di tutti quanti i personaggi sperando che questi si diano una mossa se no il gioco muore perché la gente lo abbandona anche io personalmente sto giocando molto meno e lo potete anche vedere dalla qualità dei gameplay che non è di sicuro il massimo io non sono un top player però eh un po' di conoscenza del gioco ce l'ho ma questi duelli fanno decisamente schifo per la maggior parte quindi questo è quello che penso su For Honor 2 non ne parlerei per ora penso che non sia il caso piuttosto farei una manovra come hanno fatto con Sekiro Shadow Die Twice di From Software hanno abbandonato il brand di Dark Souls penso abbandonato insomma per ora comunque non è uscito un Dark Souls 4 e va bene così tra l'altro va benissimo così perché Sekiro è un gran gioco e anche di quello ne parleremo ma non c'entra niente con For Honor quindi ragazzi questo era quello che volevo dire volevo parlare un attimo di amori e delusioni per il gioco soprattutto nella situazione attuale è speranzoso che la stagione 10 ci porti tante belle cose soprattutto spero che mi porti divertimento non mi interessa se ci saranno errori cose sbagliate perché ci saranno lo so già però ora come allora a me interessa che il gioco sia divertente voglio divertirmi voglio aprire il gioco e sapere che mi divertirò senza senza che sia sempre una gara a chi attacca per primo a chi indovina l'attacco ecco questo è quello che intendo dire spero che insomma siate d'accordo con me se non siete d'accordo con me siete liberissimi di dirlo chiaramente è un'opinione strettamente personale anzi questo era meglio se lo dicevo all'inizio ma non importa penso si possa intendere ditemi se i video magari di discussione anche parlando di cose che possono interessare voi vi piacciono non ho alcun problema a farne insomma vi basta registrare qualche clip di sottofondo e poi si parla di quello che di quello che vogliamo io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video ragazzi terzo round ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.